Eccoci qui, si è conclusa ormai da un'oretta la prima amichevole del Gubbio che ha visto pareggiare per 0-0 contro il Kadanzaro, anche se purtroppo non ero presente, quindi non so come è andata a finire, scopriremo leggendo questo articolo. Andiamo subito a leggere. Primo match a stagionale, amichevole tra Gubbio e Kadanzaro al Barbetti, si passa subito alla tattica, assente Piccini per un virus gastrointestinale, cominciamo bene, Il trainer Alexandrianis che è il 4-3, in porta a Marchegiani, difesa 4 con ai lati Tofanari e Pedrelli, al centro il duo Espece o Espeche, adesso non so bene come si pronuncia, ma lo scopriremo solo vivendo, insomma, e Schiaroli, a centrocampo la novità è vedere Cassirachi in mezzo alla destra, con Ricci che funge del playmaker, mentre come mezzo alla sinistra viene schierato Benedetti. Di punta un tridente con De Silvestro che scorrazza a destra, a Marchegi centroavanti, sulla mancina c'è il giovane Tavernelli in percussione. Una partita dove regna soprattutto l'attenzione tattica, poca velocità e poche giocate, ridotte ai minimi termini per i carichi di lavoro della preparazione estiva. Non mancano tuttavia degli spunti contro Fanari e Benedetti che lanciano De Silvestro sulla destra, sfruttando la rapidità della punta Stenna ex Siracusa. Due affondi che potevano finire con un altro esito, ma con la retroguardia dei Colabesi che regge con la giusta efficacia. Al decimo si infortuna Infantino la spalla su Ben Trabaldè, al trentasettesimo ci prova dalla distanza Statella, con un tiro di destro dal limite che è terminato di poco alto sopra la traversa, su asset di Giannuni. Al quarantesimo scambio volante a De Silvestro e Marchi, ma manca il colpo vincente finale. I due sono a ricerca della migliore intesa. Al quarantesimo ci prova con un fendente dal limite, Riggio, ma pare a terra a Marchigiani. Ottimo, ottimo, direi da questo costo da legge. T'è una partita dei Marchigiani, insomma. Ripreso, girando le sostituzioni con lo stesso assetto tattico, ma con questi interpreti. Battaglione in porta, difesa a quattro con Panamatti che sostituisce a Tofanari, poi resta tutto immutato. Dentro campo il trio con Conte in mezzo alla destra, Benedetti ridottato con Ploemekar Ploemekar e Maraccari inserito invece con mezzo alla sinistra. Davanti restano stabili De Silvestro e Marchi. Però sulla sinistra viene avanzato Casiraghi come stenne d'attacco. Al sedicesimo un gol fatto, mangiato davanti alla porta da Baldè, che calcia altro solo davanti al portiere. Soccorso in aria di Satella. Al ventesesimo si fa quasi tutto il campo con la palla al piede di Casiraghi, ma dall'immedi il tiro è telefonato. Palatella e Lasavi. Al trentadessimo dalla destra è un'azione prepotente di Silvestro che mette una palla al bacio in aria. A Maraccari e Conti a pochi passi dalla porta non riescono a trovare il tappo invincente. Al trentasenquesimo ci prova Conti dal limite con un tiro alla soterra che impegna Terra e Lasavi. Può bastare così, in attesa dei prossimi test probanti. E niente, quindi questa è la partita. Diciamo che è in primo tempo abbastanza sottotorno. Secondo tempo più azione da amore e parte, insomma, da quello che ha provato legge. Vediamo i spettatori quant'erano. Arbitro Monalde di Macerati, Carpe di Orvietio, Camigli di Foligno, Ammonidi, Benedetti. Angoli 1 a 1, recupero 3 primo tempo, 4 secondo tempo, spettatori di 155. No, mica io, alla fine. Purtroppo non c'è potuto andare anch'io. Fine mese è sempre un po' un casino, rimediare qualche soldo, purtroppo. Dico la verità, questo è il reale motivo. Quindi non c'è niente da nascondere, purtroppo. Però, dubbio che pareggia col Catanzaro. Direi un ottimo pareggio, considerandola anche la rosa loro che, a detta di tutti, vogliono addirittura vincere i loro rironi. Quindi direi che va più che bene. E ora aspettiamo gli altri amichevoli e vediamo come si concluderà la rosa. E niente, questo era tutto oggi. Vediamo le prossime partite. Sempre, sempre, sempre. Forza, dubbio.